Buongiorno oggi presentiamo il giorno del diavolo di Maurizio Piccivilli ma vieni qua che sennò non si sente bene. Siamo qui a più libri più liberi, il giorno del diavolo, il mio lavoro sul naufragio della London Valwer, una tragedia avvenuta davanti al porto di Genova, talmente drammatica, talmente coinvolgente che praticamente tutta Genova ha assistito. Una scena al quale non è stato indifferente Fabrizio D'Andrea, cantore di Genova, che vi ha scritto una canzone parlando della London Valwer. È un fatto drammatico che ha visto la morte di 28 marinai ma soprattutto gli atti di coraggio dell'equipaggio di una motovedetta della Capitaneria di Porto e di un'alicotterista dei Vigili del Fuoco che sfidando le onde alte 10 metri, 20 a 100 km all'ora, sono riusciti a recuperare più di 30 persone. Un momento drammatico che si è sviluppato nel giro di due ore proprio di fronte al lungomare di Genova, in quello che adesso è il porto nuovo della città. Grazie a Maurizio Piccivilli, il giorno del diavolo, edizione Ulla Rauna. Grazie.